La terza serata di energie si chiede perché il capitalismo italiano non cresca più e viene aperta dall'intervento dell'azienda Bondioli e Pavesi, leader nel settore delle macchine mobili, trasmissioni meccaniche, componenti oleodinamici ed elettronici. La relazione dell'ingegner Carlo Bondioli illustra la nascita dell'azienda ed il suo successivo sviluppo, il funzionamento delle dinamiche aziendali e l'importanza strategica che giocano le norme dello Stato nello sviluppo industriale del territorio. Ad ampliare quest'ultimo aspetto pensa il professor Marco Simoni, docente alla London School of Economics, ripercorrendo le principali vicende economiche e politiche italiane del ventennio appena trascorso e confrontandole con le nuove economie crescenti e in fase di sviluppo. Grazie a tutti!